La notte tra il 22 e il 23 luglio un gruppo di fortunati turisti ha potuto assistere alla deposizione delle uova da parte di una tartaruga caretta caretta sulle spiagge di Campomarino. In seguito alla loro segnalazione la Capitaneria di Porto è intervenuta sul posto e quindi sono stati coordinati i lavori, monitoraggio e protezione dei nidi nel Golfo di Taranto. Questo è accaduto nei giorni scorsi e abbiamo l'esigenza di non fare capire dove ci troviamo perché vogliamo proteggere questa deposizione di uova. Aggiungiamo qualcosa a questa bellezza, come vi siete mossi? Sì, adesso dall'anno scorso c'è un protocollo proprio particolare sulla costa ionica, diciamo l'area interessata di competenza del CRAS di Policoro, che è il CRAS competente per territorio, parte da Corigliano Calabro sino a Punta Prosciutto, quindi è un territorio vastissimo, sono centinaia di chilometri di costa. E cosa state facendo in questa foto? Chiedo scusa perché mi piacerebbe capire. Sì, qui il responsabile scientifico del CRAS di Policoro, il dottor Gianluca Cirielli, sta prendendo le coordinate precise del punto di nidificazione. Allora proseguiamo con quello che ci stava dicendo, ma io sono curiosa e quindi tendo ad interromperla perché potrei capire tutto quello che è accaduto. Siamo felicissimi di dare queste informazioni e quindi dall'anno scorso c'è questo grosso progetto intitolato Insieme per Caretta, che racchiude il CRAS di Policoro come ovviamente centro principale, poi diverse OA sparse lungo il litorale interessato, quindi il WWF Taranto, ci sono altre OA della Basilicata, della Calabria. Insomma noi attiviamo i nostri volontari per tutelare questi siti. Facciamo un'azione preventiva però, che è molto importante, però molto dispendiosa dal punto di vista del personale. L'attività di monitoraggio. Noi abbiamo il nostro referente per quanto riguarda il monitoraggio della zona di Taranto, che è il signor Manna. E quindi noi attiviamo questo monitoraggio che va fatto ovviamente all'alba, quindi alle 5 del mattino ci si alza e si monitora la costa per individuare le tracce delle tartarughe, che sono poi semplicissime. Ecco, facciamo la telecronaca di quelle che sono le immagini che stiamo vedendo. Diverse persone al lavoro per tutelare questo sito che sarà monitorato nel tempo, immagino fino alla schiusa delle uova. Assolutamente, negli ultimi 15 giorni prima della schiusa l'attività di monitoraggio sarà fatta H24, quindi il nostro personale sarà H24 sul sito per preservare la nascita di questi giovani. Ecco, un cartello come quello che abbiamo appena visto, perché voi avete recintato l'area, ecco, progetto tartarughe marine, sito in edificazione di tartaruga, si prega di non disturbare. I bagnanti hanno rispetto di queste situazioni? Allora, normalmente sì. Perché poi a questo punto mi viene da pensare anche, potrebbe invece avere l'effetto contrario un cartello come questo, attirare anziché allontanare. Come dicevamo prima per la questione incendi, la mamma degli imbecilli è sempre incinta, però dobbiamo dire che noi abbiamo un riscontro positivo, cioè la gente collabora. E noi chiediamo la collaborazione dei bagnanti, dei vacanzieri, perché non abbiamo la possibilità di monitorare tutta la costa. Ciò che abbiamo monitorato oggi dovremmo monitorarlo anche domani, perché non sappiamo quando la tartaruga scende a deporre. Ma indicativamente quali potrebbero essere i tempi, cioè le tartarughe quando compiono questa azione di deposizione e quanto tempo passa prima che vengano alla luce i piccoli? Allora, prevalentemente il periodo è da maggio ad agosto, poi abbiamo anche delle deposizioni tardive che ci costringono qui a stare fino a novembre sulle spiagge. Però il periodo, la forchetta è questa, maggio-agosto. Io vorrei dare dei suggerimenti, perché ci sono… Ecco, sì. Allora, innanzitutto noi abbiamo assistito anche l'anno scorso a delle azioni, anche quest'anno, da parte degli ignari bagnanti che vedono questa tartaruga avvicinarsi alla spiaggia e quindi iniziano le attività di selfie, le attività di… Insomma, che sono attività di disturbo. Le tartarughe si avvicinano alla battigia per due ragioni, esclusivamente per due ragioni, o per deporre o perché sono in difficoltà. Quindi, cosa fare in queste occasioni? È semplicissimo. 15-30. Capitaneria di porto, la capitaneria è disponibilissima, noi abbiamo un grandissimo supporto da parte della capitaneria perché è molto sensibile a questo problema. La capitaneria allerta gli operatori più vicini che intervengono immediatamente sul sito. Quindi, la prima cosa da fare è allontanarsi, perché il protocollo ministeriale parla di 15-20 metri dalla tartaruga, allontanarsi e chiamare il 15-30. Poi, se una tartaruga è in difficoltà, la si vede. Non bisogna affondarla per metterla giù, come abbiamo purtroppo visto fare, perché la tartaruga ha dei polmoni, quindi ha bisogno di respirare e se è in difficoltà cerca di essere… di star su. Diciamo che se non siamo esperti dobbiamo semplicemente guardare, fare i telespettatori, goderci… E' un spettacolo perché è uno spettacolo e quindi poi chiamare in causa invece il 15-30 nella fattispecie chi è più esperto, chi ne sa più di noi, che magari anche animati dallo spirito di fare bene, molte volte possiamo creare invece il documento, in questo caso alle tartarughe. Quando nascono questi piccoli? Se siamo fortunati ci troviamo sul posto, ma non capita sempre. E' emozionante, sì, noi non possiamo sapere quando nascono, perché tutto varia, insomma, in funzione delle temperature. Poi in funzione della temperatura viene stabilito il sesso, inferiore a 29 gradi, sono massi, superiori a 29 gradi, sono femmine. Quindi probabilmente quest'anno avremo una nascita di tantissime femmine, grazie a Dio. Tante femminucce di tartarughe. Esatto. Poi c'è la schiusa. La schiusa ovviamente ha degli accenni premonitori, dei segnali premonitori, noi ci attiviamo. Noi costruiamo solo per il periodo della schiusa un piccolo corridoio per agevolare la discesa delle tartarughe in mare. E quindi facciamo questa attività di monitoraggio H24. Possiamo dire quali sono questi segni premonitori? Non si possono svelare? Sì, sono dei segnali tecnici di movimento, perché la tartarughe poi ci mette 4-5 giorni dopo la nascita per venire su. Non è semplice. Ecco, in quei giorni, se voi vi rendete conto che le uova si sono schiuse, poi che fate? Presidiate in maniera più puntuale quel sito? Sì, sì, noi non ci muoviamo di lì, ma già 15 giorni prima rispetto alla previsione di schiusa noi siamo lì. Quanti turni, Presidenta? Sì, 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 H24. Quanti siete? Domanda. Allora, i soci del WWF sono tanti, però poi effettivamente i volontari, gli attivisti… Ci hanno la disponibilità anche di natura temporale. Sono sempre poti, poi specie in questi periodi ovviamente di ferie, ovviamente c'è gente che lavora e quindi ci sono, diciamo, dei periodi veramente di stress. Io l'anno scorso sul Nido ho dovuto fare 12 turni di notte consecutivi, perché mancava il personale che coprisse il turno di notte. Magari qualcuno quando torna a casa trova la porta anche chiusa, perché insomma è una bella passione, però è una passione che comporta anche tanto sacrificio. Ma ci racconta qualcosa di più sulla caretta caretta, prima di salutarci, perché ci piace questo argomento? No, la caretta caretta è ovviamente un animale in via di estinzione, è un rettile dotato di polmoni, quindi respira, respira, quindi ha bisogno di respira. Non mettetela sott'acqua. Non affondatela, se non vuole andare giù non l'affondatela, non affondatela. Ha una vita media intorno agli 80 anni, vive un po' dappertutto, però è molto presente nel Mediterraneo. E diciamo i siti di edificazione sono prevalentemente in Grecia, Turchia, dove hanno imparato a gestire queste situazioni e a farne diventare un attrattore turistico. Quindi fanno turismo ambientale, utilizzando fra virgolette le caretta caretta. Noi ne facciamo tanti di interventi invece per salvare la vita, perché molto spesso capita che magari nei nostri mari ci siano gli ami, ci siano le reti ancora, quelle in plastica che non vanno utilizzate. E che creino problemi alla salute di questi animali. Per cui per esempio anche a Torre Guaceto c'è il centro di recupero per le caretta caretta. Voi siete in rete, immagino lavoriate tutti quanti insieme per il bene di questi animali. Torre Guaceto si occupa della parte diciamo relativa all'inizio del martitreno. Insomma c'è comunque una sorta di collaborazione. Anche protocollo comune sostanzialmente. Assolutamente, le finalità sono le stesse, quindi c'è grande collaborazione. Poi ci sono delle cose simpatiche anche da dire, nel senso che a parte l'emozione di vedere queste tartarughine uscire e correre verso il mare, chiaramente bisogna sapere che queste tartarughine una volta raggiunte il mare normalmente escono di notte per difendersi dai predatori, però capita anche di trovarsene sotto gli ombrelloni, perché noi tanti nidi li perdiamo proprio per la mancanza di monitoraggio accurato, che è quasi impossibile da fare. E poi queste tartarughine nuotano incessantemente per più di 24 ore, a volte anche 48, per arrivare in mare aperto e quindi proteggersi dai predatori e trovare disponibilità alimentare. Nuotano esclusivamente, non si alimentano, non si riposano e vanno via. Per 48 ore anche? Sì, anche per 48 ore, memorizzano in uno GPS nel loro cervello naturale la posizione della schiusa e torneranno sicuramente chi sopravviverà, perché il tasso di sopravvivenza è molto basso, tornerà a nidificare nel posto di nascita, in cui è nato, tra una ventina d'anni. Una bella curiosità che in qualche maniera accomuna le tartarughe all'uomo, perché anche noi molto spesso nasciamo in un posto, andiamo via, facciamo la carriera professionale, mettiamo famiglia altrove e poi ritorniamo alla base. Allora, io la ringrazio Presidente, grazie a Giovanni De Vincentis, Presidente WWF di Taranto, per questa bella storia che ci ha raccontato, grazie anche per il lavoro che svolgono i volontari quotidianamente. Fa bene sapere quelli che sono i sacrifici che voi affrontate, insomma presidiare un territorio seppur piccolo per 15, 20 notti non è cosa semplicissima. In questo caso abbiamo parlato della caretta caretta, ma immagino che lo facciate anche per tante altre specie. Quindi un ringraziamento particolare per tutto il lavoro che è svolgente sul nostro territorio. Io vorrei solo ricordare il 15-30. 15-30, lo ricordiamolo, ci lasciamo con un appello, chiamare il 15-30. Non improvvisiamoci, salvatori di tartarughe o quant'altro. Assolutamente.